Si chiama Orco, il percorso laboratoriale di podcasting e web radio che ha visto impegnati le studentesse e gli studenti dell'Istituto Comprensivo Buonaventura di Potenza. Pensato inizialmente come alternativa alle attività in presenza durante il periodo della pandemia, il progetto, finanziato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, si è poi rivelato un validissimo strumento di conoscenza e confronto su varie tematiche. Creare podcast ha permesso agli studenti di acquisire competenze digitali e ampliare le conoscenze su materie di studio quotidiano come la storia, la geografia o l'italiano in una ottica del tutto singolare. I nostri alunni grazie a questo progetto hanno avuto la possibilità non soltanto di misurarsi con le nuove tecnologie ma soprattutto di diventare protagonisti attivi del loro percorso di apprendimento. Abbiamo imparato a utilizzare diverse app e a montare insieme musica e audio, è stata un'esperienza molto bella. Sono andato a intervistare il negozio dell'Apple per chiedere la loro tecnologia e come si svilupperà in futuro. Mi hanno detto avremo più tecnologia e in pratica useremo più audiolibri e musica che si sentirà meglio. Il progetto ORCO orientamento consapevole rientra all'interno di una rete più ampia denominata Startnet che è una rete per la transizione scuola-lavoro che vede come capofila la fondazione Mercator e il Goethe Institute che è l'istituto di cultura tedesca in Italia e anche diversi partner tra cui l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, la Regione Puglia ed altri attori tra cui diversi enti e promuove quindi nelle scuole tra gli altri progetti anche i progetti relativi alla transizione scuola-lavoro, l'orientamento, l'approfondimento delle abilità e delle esperienze di vita personali dei bambini con diversi progetti con il coinvolgimento di educatori esterni alla scuola che ovviamente collaborano e riescono quindi a coinvolgere i bambini utilizzando come abbiamo ascoltato dai bambini tecnologie app affinché insomma ci si possa avvicinare di più al mondo dei ragazzi e veicolare meglio i contenuti.